Da quello che abbiamo appurato fino adesso non credo che le argomentazioni siano sufficienti, semplicemente parole, ci vogliono forse un po' di fatti. L'unica cosa che abbiamo agli atti oggi è De Benedetti, confermato da Prodi, che dicono che il Presidente Napolitano a giugno aveva già contattato Monti per chiedere una sua disponibilità a formare un governo. Nulla ci impedisce di pensare che tutti gli atti seguenti, tutto quello che è successo nei mesi successivi non sia stato orchestrato, al fine di portare a una caduta del governo Berlusconi e mettere dentro un governo Monti preordinato altrove.